Ehi, bentornati su Breaking Italy. Ad inizio ottobre si è parlato molto distrattamente, soprattutto nel nostro paese, di una serie di immagini shock provenienti da varie carceri russe. La notizia è stata data un po' frettolosamente dalla stampita nazionale, in realtà è nemmeno da tutta. La BBC ha dedicato letteralmente un paio di righe alla vicenda e poi ce ne si è sostanzialmente tutti dimenticati. Tanto che quando qui stamattina ci siamo accorti che ci fossero degli aggiornamenti importanti della vicenda, ci siamo anche scontrati con la scarsissima copertura del fatto in Italia. Quindi facciamo così, recuperiamo noi che è una storia super interessante, con un avviso iniziale. Oggi parliamo di violenze fisiche, carnali, di tortura, di umiliazioni. Se siete molto sensibili in merito a uno o più di questi temi, preparatevi o magari aspettate di essere in uno stato psicologico adatto. Ok, pronti? Il protagonista della storia è lui, si chiama Sergei Savaliev, è bielorusso, e ha 31 anni. E a quanto pare di anni ne ha passati 7 e mezzo chiusi in un carcere nella città di Saratov, che si trova qui, a sud, vicino al fiume Volga. Savaliev era infatti stato arrestato per traffico di stupefacenti ed è stato recentemente liberato con uno sconto di pena per buona condotta, che in genere è quel premio che viene conferito ai detenuti che non causano problemi, che stanno tranquilli e che si impegnano con solerzia in un qualche tipo di lavoro all'interno del carcere. E cosa faceva Savaliev? L'uomo, come ha raccontato poi, ha lavorato per anni come manutentore informatico, cosa che gli ha permesso, prima supervisionato dagli agenti, poi con sempre maggiore indipendenza, di accedere ai server sia della prigione di Saratov, sia anche di altre prigioni, dove ovviamente sono conservati, tra le altre cose, i girati delle videocamere di sorveglianza. E insomma, visto che abbiamo aperto citando immagini shock, potete immaginare dove stiamo andando a parare, no? Però credetemi, non avete la minima idea del materiale che Savaliev è riuscito a far uscire dal carcere. È terribile. Io l'ho visto, ho guardato i video, ho sentito le urla. È roba che ha il confronto. Le immagini che tutti avevamo visto delle violenze al carcere italiano di Santa Maria Capoavetere, per le quali ci siamo giustamente indignati e che hanno comportato un intervento della ministra Cartabia, non sono niente a confronto, ma proprio niente. Savaliev si è infatti velocemente reso conto che all'interno del penitenziario, lui racconta, erano all'ordine del giorno violenze incredibili. Aggressioni, torture, violenze carnali, sia da parte degli agenti nei confronti dei detenuti, sia da parte di detenuti contro altri detenuti, che in molti casi venivano incitati dalle guardie ad essere violenti gli uni con gli altri, promettendo loro dei benefici. E fare allo stesso tempo in modo che i detenuti potessero essere puniti per i loro comportamenti, o ancora utilizzare queste violenze come un modo per estorcere informazioni. Un esempio molto concreto, spiegano France 24 e l'agenzia Reuters, che se ne sono occupate, è quello dell'aprile del 2020, quando scoppiò una rivolta nella colonia penale siberiana di Angarsk, nata da delle proteste avvenute dopo il pestaggio di una guardia ai danni di un detenuto. E dopo le proteste, proprio come era avvenuto a Santa Maria Capuavetere in Campania, le guardie anche in questo caso si organizzarono per vendicarsi. In questo caso in Russia, ci sono molte testimonianze di ex detenuti, le guardie del carcere utilizzarono ogni mezzo a loro disposizione per far sì che tanti di questi detenuti testimoniassero la loro partecipazione alle proteste, anche una partecipazione laterale, senza che avessero fatto del male a nessuno. Questo, dice Savaliev, è sostanzialmente un sistema consolidato nelle carceri di Lussè, e quindi l'ex detenuto in anni e anni è riuscito a mettere da parte moltissime registrazioni che testimoniano queste cose, salvando i file in piccoli supporti esterni che è lentamente riuscito a procurarsi e che ha poi nascosto in una zona vicina all'uscita del carcere. Quando è stato finalmente liberato quindi, ha recuperato questi drive, parliamo di migliaia di video a quanto pare, solo una piccola parte è stata per ora diffusa, e li ha portati con sé, affidandoli a gulagu.net, una ONG russa che si occupa di abusi all'interno del sistema carcerario. Però, problema, parliamo di un uomo bielorusso, che quindi si è velocemente trovato a doversi porre il problema della propria incolumità personale. Spaventato infatti da quello che gli sarebbe potuto succedere se si fosse trovato in Russia o in Bielorussia al momento della diffusione di questi file e la sua identità fosse stata scoperta, anche perché, dai, non era così difficile capire chi avesse potuto sottrarre quei file, non solo ha inizialmente fatto diffondere tutto senza rivelare la propria identità, ma grazie al supporto della già citata ONG di prima, si è imbarcato in un viaggio incredibile per sfuggire a quello che ha pensato potesse essere un eventuale interessamento delle autorità. Che peraltro non ha tardato ad arrivare, parliamo pure di quello. Savaliev ha passato quindi il confine tra Russia e Bielorussia a bordo di un pulmino, ritenendo che fosse un mezzo meno tracciabile dell'aereo. E vista la stretta collaborazione tra i due paesi e l'eventualità di essere stradato, si è poi spostato con un volo a Istanbul, in Turchia. Da lì ha cambiato ancora direzione e si è diretto in Tunisia, nazione in cui sapeva non gli sarebbe stato richiesto un visto per accedere. E dopo qualche tempo, immagino sempre per non destare particolari sospetti, ha comprato il biglietto di rientro verso Minsk in Bielorussia, ma un biglietto con un volo che faceva scalò a Parigi, dove poi si è fermato in realtà per richiedere asilo politico. Ed è la ragione per cui si parla di nuovo dell'intera vicenda, in Francia soprattutto, perché ha chiesto asilo politico lì. E quindi la questione è molto più sentita oltre Alpe. Ed ecco quindi a corredo anche il selfie che Savaliev si è fatto all'aeroporto di Parigi, De Gaulle. L'inchiesta ad inizio mese aveva comunque avuto una serie di conseguenze. Dall'annuncio di indagini interne al sistema carcerario russo, a una serie di licenziamenti di alti ingrado nel sistema carcerario, ad ancora le dimissioni del coordinatore delle carceri della zona in cui è presente anche quello di Saratov. Ma era rimasta sostanzialmente una storia circoscritta alla Russia, mentre ora diventa, o rischia di diventare, un problema diplomatico, internazionale. Tenete infatti conto del fatto che Savaliev ha riferito di essere stato rintracciato e contattato dalle autorità russe, che inizialmente non si sono particolarmente preoccupate delle violazioni di diritti umani che lui stesso ha documentato, quanto del fatto che avesse trafugato il materiale video, promettendogli che se si fosse consegnato spontaneamente, invece di processarlo per spionaggio, un crimine punito con una pena dai 10 ai 20 anni di reclusione, ne avrebbe potuto scontare soltanto 4 per un reato minore, che comprensibilmente lo hanno portato a dire, io vado in Francia, con tutto quello che ne consegnerà, se la sua richiesta dovesse essere accettata. Accettare la richiesta d'asilo significherebbe per la Francia, infatti, implicitamente, che non ritiene che la Russia possa garantire un giusto processo all'uomo. Non c'è modo che questa cosa possa non divenire l'ennesimo incidente diplomatico. Arriviamo al punto e andiamo oltre. Cosa c'è nei video? Io seguo la solita politica del non mostrarvi le violenze, ma lasciare che, se volete, possiate essere voi ad andare a vederle in descrizione. Perché, sia chiaro, non c'è prosa che io possa fare che trasmetta il contenuto di quelle immagini. Si vedono uomini legati, picchiati, si vedono persone immobilizzate, sulle quali altri detenuti urinano, si vedono percosse, si vedono umiliazioni, si vedono violenze carnali di ogni tipo, messe in pratica sia da detenuti completamente nudi, senza preservativo, su altri, immobilizzati, sia dalle guardie, tramite l'ausilio di bastoni e altri strumenti. È una roba completamente senza senso, malvagia, che ancora una volta restituisce l'idea, purtroppo molto diffusa in tutto il mondo, anche se a varie gradazioni di intensità, che le persone in carcere non valgano, che a loro si possa fare tutto, è che le mura del penitenziario creino una sorta di realtà parallela, in cui cose che fuori non avrebbero posto nemmeno in un film, lì dentro siano assoluta normalità. Tanto che, di nuovo, si fanno di fronte alle telecamere, con le telecamere accese, nessuno ci pensa. Ci tengo a ribadire una cosa sulle carceri, poi chiudiamo, promesso. Non è che io ritenga bello vedere certe immagini, sia chiaro, ma perlomeno a me serve per spogliarmi di un inquadramento che credo mi sia stato trasferito dalla società italiana. Ce l'ho. Che è quello che le persone in carcere debbano soffrire. Siano lì per purificarsi. Proprio oggi Luigi Manconi, su Repubblica, racconta la storia di un detenuto italiano, condannato al 41 bis, che ha chiesto di poter comprare delle riviste porno, che gli servivano per ovvi scopi, e che è arrivato sino in Cassazione, cercando di ottenere questa possibilità, che gli è stata infine legata. Ufficialmente per questioni legate alla sicurezza, cioè a causa del fatto che introdurre riviste o libri dall'esterno può essere un modo per avere contatti con l'esterno e quindi continuare a esercitare influenza su clan di affiliazione, ad esempio. Ma anche perché, si leggerebbe, siccome il detenuto chiedeva di poter accedere alle riviste per praticare autoelotismo, che fa parte dell'esercizio della propria sessualità, la Cassazione si è trovata a dover rispondere che la visione di immagini pornografiche non sia una condizione ineludibile ai fini della masturbazione. Insomma, in soldoni, siccome puoi fare anche senza, usando la fantasia, le riviste non te le facciamo avere, non sono indispensabili. Manconi, sul suo pezzo, cerca di mettere attenzione sul fatto che dietro questa scelta, quindi apparentemente presa per ragioni di sicurezza, ci sia anche la volontà di interpretare il 41 bis non come un modo per isolare il detenuto pericoloso dall'esterno, dal suo clan, dalla sua famiglia, dalla società, ma come carcere duro nel senso di sofferenza, per cui anche la richiesta di un giornaletto erotico viene vissuta un po' da tutti, giudici compresi, come un'insopportabile richiesta, tipo, eh vabbè, mo' questo vuole pure i porno. Perché chi è in carcere deve soffrire, e questa cosa credo sia un po' dentro ognuno di noi, di sicuro un po' dentro di me. E forse il miglior modo per liberarmi di questo imprinting è proprio guardare cosa succede nelle carceri quando i suoi abitanti e le sue guardie sono convinti che nessuno sia attento. Perché è un po' all'ombra di questa pretesa di sofferenza, che poi mi sembra nascono e maturano le peggiori violenze. Secondo blocco, parliamo un po' di Spagna e di prostituzione, così vi scaldate un po', ma prima una piccola errata, piccolissima, ci metto un attimo. Ieri parlando di riconoscimento facciale dei suoi pericoli, ho riferito di fantomatici server in cui Apple, che ho preso a esempio, l'ho scelta a caso, terrebbe i dati biometrici dei suoi utenti. In realtà Apple non tiene proprio niente, il riconoscimento facciale viene fatto sul telefono proprio perché Apple non vuole avere i vostri dati biometrici, così da non andare incontro a problemi. Ecco, quello è un atteggiamento virtuoso. Il fatto che nella metrorussa i dati vengano direttamente mandati al Ministero dell'Interno è invece un atteggiamento meno virtuoso, ma vi rimando per questo al video di ieri. Torniamo alla Spagna. Tra venerdì e domenica della scorsa settimana si è tenuto a Valencia il quarantesimo congresso del Partito Socialista Spagnolo o PSOE e durante il congresso il primo ministro Sanchez, nonché segretario del partito, ha fatto alcuni annunci sulla linea che il partito e il governo prenderanno nel prossimo periodo. E tra le tante cose sulle quali per ora glissiamo si è anche discusso di temi legati ai diritti delle donne, proponendo di ostacolare in qualche modo le strutture che si occupano di gestazione per altri, cioè quella che in Italia è chiamata dai suoi detrattori utero in affitto, in cui sostanzialmente una donna provvede alla gestazione per conto di uno o più persone che saranno poi di fatto i genitori del nascituro. La pratica è in genere mal vista dalle destre conservatrici, ma anche da alcuni ambienti a sinistra che ritengono la pratica mini i diritti delle più vulnerabili, no? Che necessitando di denaro sarebbero portate a utilizzare il proprio corpo e la sua funzione riproduttiva come strumento economico. Ma non è questa la dichiarazione che ha fatto di gran lunga più scalpore tra quelle di Sanchez, perché di nuovo sulla gestazione per altri il dibattito è un po' trasversale, non divide così nettamente destra e sinistra. Mentre è una cosa che ha detto sulla prostituzione ad aver fatto girare un po' di teste. Sanchez infatti, leader di sinistra, ha parlato della necessità di criminalizzare la prostituzione nel paese, che sarebbe da considerare una pratica nociva e schiavizzante principalmente per le donne. Ora, per amor di verità, la criminalizzazione della prostituzione era già parte del programma elettorale del partito nel 2019, anzi, l'abolizione a dirla tutta, ma ovviamente se n'è parlato di nuovo, perché poi è un tema che è sempre caldissimo in ogni luogo della terra, in ogni nazione possibile. Quindi facciamo un passo indietro per capire cosa sia effettivamente legale in Spagna e cosa no. Ma prima vediamo un po' di numeri per capire la portata del fenomeno nel paese. Secondo dati riportati dalla BBC, nel 2016 l'industria del sesso in Spagna ammontava un totale di 3,7 miliardi di euro e stando a un report del 2009 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, emergerebbe che, da sondaggi effettuati su campioni rappresentativi, il 39% degli uomini adulti nel paese affermerebbe di aver pagato per ottenere prestazioni sessuali almeno una volta nella vita, che è una cifra un po' alta del 40%, no? Superata solo da Porto Rico, dove parliamo del 61%, e dalla Thailandia, dove il fenomeno è diffusissimo e il dato sarebbe del 73%. Sempre la BBC stima inoltre che le sex worker in Spagna ammontino a ben 300 mila, per quanto altre statistiche delle Nazioni Unite, che però siamo andati a cercarci da soli e sono un po' vecchie, del 2013, parlano invece di 70 mila, quindi un numero ben più basso. Quindi, visto questo, dove sono i limiti della legalità del fenomeno? Dunque, la prostituzione è di per sé legale nel paese, dal 1995, fatta eccezione per persone minoregne o con disturbi mentali, eppur che non si svolga in luoghi pubblici o vicini a zone frequentate da minori. Mentre, revisioni successive del codice, resalenti al 99 e al 2000, danno più tutele a vittime di traffico umano, specialmente quando parliamo di ambito migratorio. Poi c'è un ulteriore clausa, è che non ci sia guadagno di una terza persona, cioè di un intermediario, quindi come da noi, che diverrebbe perseguibile per il reato di sfruttamento. Ma, differentemente dall'Italia, le sex worker tendono a organizzarsi in dei bordelli e in delle strutture in cui svolgono la professione, anche se non in modo ufficiale. Di nuovo, siamo un po' in una zona grigia che porta ad alcune strutture. Come spiegato in un reportage di Weiss del 2019, lo lascio in descrizione, il 90% delle sex worker è immigrata da altri paesi più poveri ed è attratto da questa situazione giuridica di limbo tra luoghi come la Germania, dove la prostituzione è regolamentata e quindi porta con sé tutte le questioni burocratiche del caso, e altri come la Francia, in cui è invece criminalizzata e chi svolge questo mestiere in Francia sta di fatto commettendo un reato. Come spiega Weiss, l'unico partito spagnolo a favore di una più regolare, strutturata e vera e propria legalizzazione è quello di centrosinistra Ciudadanos, che vede nella regolamentazione dei benefici rispetto alla situazione odierna, ad esempio immaginando la possibilità di iscriversi a programmi di previdenza sociale, di avere un sindacato, di godere insomma dei diritti riservati agli altri lavoratori. Altri partiti, tra cui appunto quello di sinistra dei socialisti, che è di sinistra, sono invece più incline a vedere i possibili risvolti negativi, come i fenomeni di sfruttamento. Ad esempio, riporta la BBC, la polizia spagnola riporta di liberare spesso delle donne che vengono sfruttate come prostitute, tanto che nel paese l'80% circa delle sex worker sarebbe in qualche misura una vittima della criminalità organizzata e del traffico di esseri umani, che è un dato che un po' fa crollare effettivamente la narrazione di queste donne che da sole entrano nel mondo del sex work e diventano imprenditrici di loro stesse. Questa battaglia, peraltro, che veramente è vecchia come il tempo, io mi ricordo discussioni al liceo, non è cambiato niente, si combatte anche tra associazioni. La APRAMP, ad esempio, che è volta a radicare lo sfruttamento sessuale, ha commentato come la prostituzione non sia mai un'espressione della libertà sessuale delle donne, perché è spesso collegata a violenze, marginalizzazioni, disagio economico e anche a una cultura sessista patriarcale. Mentre, di tutt'altro avviso, è CATS, una ONG che supporta coloro che lavorano nell'industria sessuale, che evidenzia come le politiche che vogliono l'abolizione della prostituzione sarebbero contro l'interesse delle stesse donne che scelgono di lavorarci, dato che queste donne finirebbero spinte ai margini e a operare nella più completa illegalità, in cui aumenterebbero esponenzialmente i rischi di sfruttamento e di violenza, di fatto rendendo le donne più vulnerabili. Insomma, di nuovo, le argomentazioni che sentiamo da una vita, anche in tutto il resto d'Europa, Italia compresa. Quindi come va da noi? In Italia la situazione non è particolarmente diversa da quella spagnola, perlomeno sulla carta. La prostituzione non è infatti né completamente legale, né costituisce di per sé un reato. E come dicevamo prima, la sostanziale differenza con altre realtà sta nella legge Merlin del 1958, che di fatto lo sanno tutti, vietò i bordelli, o le cosiddette case chiuse, creando il reato di sfruttamento e quello di favoreggiamento alla prostituzione. Quello che però spesso si recrimina alla legge è l'aver di fatto spostato le prostitute dalle case chiuse alla strada, perlomeno sino alla legge Carfagna del 2008, che costituisce un'ulteriore differenza rispetto al paese di Sanchez. Quest'ultima legge infatti criminalizza chiunque eserciti o inviti a esercitare la prostituzione in qualsiasi luogo pubblico, quindi anche le strade. Infatti avrete notato che le prostitute da dieci anni a questa parte sono totalmente scomparse dalle strade. Non se ne vedono più, signora mia. Questa legge ce l'ha fatta. Abbiamo abolito la prostituzione. Quindi, ricapitolando, la prostituzione è legale, ma non nei luoghi pubblici, non nelle strade, né in strutture specifiche designate per quel fine, il che lascia aperta solo la possibilità di esercitare in una casa privata e non con intermediari. Comunque, la cosa più interessante è che in generale queste leggi, e il conseguente adattamento della società, perché tanto ha voglia Sanchez di iniziare la sua battaglia per l'abolizione della prostituzione, dubito ce la farà mai, senza perlomeno instaurare uno stato di polizia mai visto, e che poi queste regole modificano anche un po' il sentire comune nei confronti dei fenomeni. È una considerazione banale, ovviamente, ma più si spingono nell'ombra e si criminalizzano alcuni comportamenti, più questi risulteranno essere percepiti come sbagliati e legati a contesti scabrosi. E per il resto, poi, è un discorso gigantesco, quello sulla prostituzione, non abbiamo tempo, se volete vi leggo nei commenti, però credo sia interessante sottolineare come, di nuovo, in alcuni casi, le spaccature che tradizionalmente dovrebbero dividere destra e sinistra, inizino a non essere più le stesse. E mentre su alcuni punti si continua a dar battaglia, penso allo U-Soli, l'immigrazione, i temi arcobaleno, ovviamente l'economia, su altri, come questo, le divergenze non sembrano essere poi così nette. Anche in Italia. Terzo blocco, siamo in chiusura. Parliamo di questo signore qui, che si chiama Julian Reichelt e, sino a pochi giorni fa, era il direttore del tabloid tedesco Bild. Dico era perché la multinazionale editoriale tedesca che possiede il tabloid, chiamata Axel Springer, ne ha deciso il licenziamento a causa di alcune accuse di molestie sessuali provenienti da diverse donne che hanno collaborato con l'ex direttore mentre ancora ricopriva la carica. Ora, la ragione per cui stiamo parlando della questione va un po' oltre la vicenda personale di Reichelt, però. Lo facciamo perché questa storia può anche raccontarci un pezzettino di come può funzionare il mondo dell'editoria o delle multinazionali, sia nel bene che nel male. La decisione della multinazionale, che peraltro possiede diverse testate tedesche e anche internazionali, il Welt, il Business Insider, ad esempio, è arrivata pochi giorni dopo la pubblicazione di un'altra inchiesta sul New York Times, in cui si citavano accuse di molestie e in generale di un consolidato sistema di abuso di potere, che sostanzialmente prevedeva che l'ex dirigente invitasse a cena le giovani dipendenti, per poi entrarci in intimità e successivamente farle avanzare nella loro posizione lavorativa. Dinamica non proprio trasparentissima e soprattutto problematica nel momento in cui Reichelt utilizzava il proprio ruolo professionale per perseguire fini personali. L'articolo in questione parlava anche di una relazione avuta con una stagista di 25 anni, avuta mentre lui ne aveva più di 10 in più, e riportava la testimonianza della ragazza stessa che sosteneva che Reichelt avesse paura che qualcuno scoprisse della relazione per paura appunto di venire licenziato. Ma non è finita qui. Le accuse di molestie e di aver costruito questo sistema di potere erano infatti già emerse tramite un'indagine della testata Spiegel, sempre di proprietà della Springer, che aveva confermato il ruolo di Reichelt in aver costruito quest'ambiente quantomeno ostile per le lavoratrici donne. Però quest'indagine era emersa nel marzo di quest'anno, quindi molto prima dell'articolo del New York Times, e aveva provocato soltanto una sospensione di Reichelt di 12 giorni, senza però che ne venisse compromesso il ruolo, cosa che porta a pensare che la situazione sia stata un po' derubricata per non creare problemi internamente. Il vero e proprio licenziamento sarebbe invece avvenuto soltanto dopo la pubblicazione del New York Times, che è esterna al gruppo Springer, che però è stata giustificata con l'emersione di ulteriori dettagli, cioè quelli che riguardano la relazione con la stagista. In sostanza, comunque, alcuni osservatori sottolineano come la multinazionale si sia trovata un po' costretta a licenziare l'ex dirigente per salvare la faccia, a causa della risonanza che la vicenda ha avuto dopo l'articolo del Times. Altro aspetto interessante è che la questione potrebbe essere emersa perché Politico, una testata statunitense molto focalizzata sulle questioni interne agli USA, è stata acquistata pochi mesi fa proprio dalla Springer, la quale è palese si stia muovendo per aumentare la propria sfera di influenza, anche fuori dal territorio tedesco ed europeo, considerando che ha persino tentato anche di acquistare il sito di informazione Axios, pur senza riuscirci. Ovviamente la si può anche vedere così, più alto è il livello al quale giochi, più alta è anche la possibilità che questioni che ti gestisci normalmente internamente, in casa, senza troppo rumore, raggiungono invece orecchie indesiderate. Quindi, morale della favola, se avete relazioni con stagiste molestate, le vostre dipendenti, non quotatevi in borsa, mantenete un profilo basso e non abbiate troppo successo. E dovrebbe andare tutto più o meno bene. Questo è perlomeno quello che io ho imparato da questa storia. Non c'è nessun altro insegnamento da trarre, mi sembra. E questo era tutto per oggi, grazie per aver guardato. Se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, così non ve li perdete e io sono contento di vedere che vi iscrivete. O potete anche cercare il canale Telegram dedicato alle notifiche, super utile, trovate in descrizione. Vi ricordo anche che tutto è sostenuto da un sistema di abbonamento, Breaking Italy Club, che finanzia tutto quanto e permette di accedere ad alcuni privilegi e ad alcuni contenuti speciali. Andate su breakingitaly.club per saperne di più. Era tutto, fate i bravi, tutti. Ci vediamo domani.